Quando prenoti il tuo viaggio, affidati a Blue Coral Vacanze. Entra nel colorato mondo Blue Coral Vacanze. Crea con noi la tua vacanza ideale. Blue Coral Vacanze, in corso Vittorio Emanuele 160-162 a Sciacca. Alessandro Capurro, per la vostra Ollus, questa è l'ennesima donazione, tra le altre cose, di un presidio medico che ha inaugurato un po' quella che è la vostra attività. Quanti sono i defibrillatori che avete donato fino adesso? Per ora ne abbiamo donato circa 10. Il conto è facile farlo perché l'abbiamo donato al liceo artistico, al liceo scientifico. Tante scuole, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, anche il Palone Tenda, Croce Rossa. Tantissime associazioni che hanno ricevuto la vostra donazione. Oggi quella al comando della Polizia Municipale. Sì, la Polizia Municipale per noi era un tassello importante da soddisfare perché capiamo che gli agenti sono sempre in servizio, sia in centro storico, ma anche nelle zone limitrofe, nelle periferie. fanno tantissimi interventi perché hanno la competenza anche a intervenire negli incidenti stradali e possono sicuramente, essendo sempre in giro per la città, individuare anche delle criticità cardiache e quindi intervenire prontamente con questo dispositivo salvavita. Rispetto a quando avete iniziato la campagna delle donazioni proprio dei fibrillatori, pensate che sia anche cambiata un po' la cultura in questo senso della prevenzione? Sì, è cambiata tantissimo. Siamo spesso e volentieri anche stimolati nel fare anche dei corsi che abbiamo sempre abbinato insieme alle donazioni, corsi di primo soccorso, quindi si è smossa sicuramente la sensibilità da parte delle persone e delle istituzioni. Quest'anno abbiamo inaugurato con i vigili urbani, con la Polizia Municipale, ma già speriamo di ulteriormente ampliare anche sempre donazioni di dei fibrillatori ad altre strutture. Siamo consapevoli che purtroppo le risorse sono quelle che sono, quindi siamo anche in periodo di 5 per 1000, chiunque ci vuole dare una mano può... Ricordiamola, la vostra è una Ollus riconosciuta, quindi chi vuole può donare parte delle proprie fiscalità alla vostra associazione, alla vostra Ollus. Ricordiamo brevemente come fare. Sì, è semplicissimo, siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, quindi è sufficiente scrivere il codice fiscale 92022 530841 nella dichiarazione fiscale, non nella dichiarazione dei redditi, non c'è altro da fare. È molto semplice, per noi è un aiuto prezioso perché ci consente di poter continuare a fare altre iniziative di utilità sociale. Commissario Navarra, da oggi anche una vostra pattuglia avrà questo importante presidio medico a disposizione, tra le altre cose voi siete impegnati in una svariata attività e soprattutto a supporto del cittadino. Questo che cosa significa per voi la donazione di oggi? Sì, questo è uno strumento medico che viene utilizzato spesso dalle forze dell'ordine. Sciacca, come Polizia Municipale, ne era sfornito. Grazie all'associazione Capurro che ha avuto questa brillante idea abbiamo subito accettato la proposta. Il dottore Capurro ha pensato bene di prendere l'ultima generazione di un'apparecchiatura che sicuramente sarà utilizzata in maniera... Speriamo mai, insomma, però è sicuramente a salvaguardia della salute di tutti. Ovviamente si spera che non venga utilizzato mai, però spesso è capitato che siamo arrivati anche prima dell'ambulanza quindi magari lo strumento sarebbe stato utile anche in precedenza. Poi intervenite anche negli incidenti stradali. Ricordiamo a tutti quanto è importante la sicurezza stradale e lei lo può fare a nome di tutto il comando. Assolutamente sì. Noi siamo la forza dell'ordine a Sciacca che facciamo più generazioni stradali, soprattutto in ambito urbano. Le facciamo solitamente 80-100 l'anno. L'anno scorso ne abbiamo fatti di meno anche perché c'è stata la pandemia, quindi la gente è uscita poco, se ne sono stati una sessantina, ma solitamente 80-100 incidenti li facciamo. Quindi può capitare, perché ne abbiamo avuto anche di mortali, può capitare che praticamente arriviamo prima dell'ambulanza e quindi che possa essere utilizzato. Assessore, il comando della Polizia Municipale di Sciacca ne era sprovvisto da oggi grazie alla Olus Capurro. Avrà anche questo presidio che è importante soprattutto perché proprio i vigili urbani spesso arrivano anche prima dei soccorritori laddove succedono degli incidenti nel perimetro urbano, talvolta anche di gravi. Sì, è un'ulteriore dimostrazione del grande cuore che la famiglia Capurro ha verso la città, verso la comunità. Questo alle volte sono cose a cui dovrebbe provvedere la pubblica amministrazione. L'associazione Capurro va oltre, ci fa fare anche brutte figure. E però questo oggi è un giorno importante perché con questa donazione colmiamo una lacuna perché il defibrillatore potrebbe consentire, in caso di intervento da parte dei vigili urbani, di salvare delle vite umane. E questo è importante. Le chiedo una battuta sul comando della Polizia Municipale a Sciacca, un comando che adesso ha una nuova sede da qualche mese, è stata importante anche durante la pandemia il loro apporto e che adesso cerca, insomma, il comune ha anche messo a bando dei concorsi proprio per andare a rinforzare l'organico che è sempre stata la grande pecca di un comando che ha bisogno di uomini. Sì, sì, purtroppo non solo il comando di Polizia Municipale ma tutto il comune di Sciacca registra una carenza di personale. In particolare il comando di Polizia Municipale ormai è ridotto a lumicino 25-26 unità e che non riescono a coprire i tanti ruoli a cui dovrebbero dare risposta. Abbiamo pensato di recuperare alcuni pensionamenti facendo appunto dei concorsi che rappresenteranno un momento importante anche perché ci auguriamo che forze giovani possano vincere i concorsi in maniera da dare anche un nuovo impulso al comando che comunque opera bene ma purtroppo, come si sa, di fronte alle multe, di fronte agli interventi dei vigili urbani ci si lamenta sempre. Però immaginate se non ci fossero, immaginate saremmo in una totale anarchia e invece per fortuna ci sono, svolgono il loro ruolo compatibilmente anche alle forze di risorse umane che ci sono ma secondo me lo svolgono bene.